Di fronte all'aumento dei casi Covid il Governo sta pensando di ridurre la durata del Green Pass da 12 a 9 mesi ma soprattutto sta ipotizzando la possibilità di introdurre una sorta di super Green Pass per accedere agli esercizi pubblici. Green Pass valido solo con vaccinazione o guarigione, non basta più il tampone. Voi come pubblici esercizi cosa ne pensate? Al momento non conosciamo ancora i termini di questa ipotesi quindi è difficile fare una valutazione. È sicuro, è certo che comunque siamo favorevoli a qualsiasi misura che vada a scongiurare ulteriori chiusure o ulteriori limitazioni sugli orari e situazioni simili. Aspettiamo di vedere quali saranno i termini, capire se sarà un modello l'austriaca o meno, se la gente all'esterno continuerà a poter frequentare pubblici esercizi o meno e poi giudicheremo in base a quello. Voi avete avuto qualche problema con i clienti forse più che con i dipendenti. Mi diceva che insomma qualcuno che prova a fare il furbo e entrare senza Green Pass c'è sempre. Sì, è una piccola minoranza. Devo dire che sul nostro territorio la risposta è stata positiva sul discorso del Green Pass. Arrivano quasi tutti già col telefonino in mano mostrandolo. Quindi è una piccola minoranza che però esiste e con cui ogni tanto bisogna avere a che fare. C'è chi lo fa, tenta di farlo in maniera un po' più furba, chi invece addirittura si arrabbia nel momento in cui viene chiesto di sedersi fuori. Però sono numeri irrilevanti. Intanto c'è un'indagine di Federconsumatori a Bergamo che dice che su dieci esercizi quattro non chiedono Green Pass. Mi stupisce questa cosa perché per quello che vedo io a Lecco la situazione non è così. C'è un buon controllo da parte dei gestori dei locali sotto questo aspetto e mi fa veramente strano vedere che a Bergamo stia succedendo questo.